...che il dottor Palomba tirasse fuori i bigliettini, quei bigliettini che abbiamo visto prima, perché da rispondere non abbiamo potuto rispondere a tutte le domande, c'era un messaggio di un papà interessante, non so se riusciamo a rispondere alle domande... Un padre di famiglia e uno dei miei figli, se uno dei miei figli mi rivelasse di essere omosessuale avrei rispetto delle sue scelte e lo apprezzerei ancora di più per aver trovato il coraggio di parlarmene, secondo me solo con la sincerità si riesce a vivere in pace con la propria coscienza, questa è una delle domande che hanno fatto a te la trasmissione... Sì, che hanno fatto lì, ma poi ce ne erano altre, il tempo stringe, mi fanno i consueti gesti, non dico più segni...